Ciao cari amici investitori come va? Io sono Andrea e bentornati sul mio canale dove parliamo di investimenti finanze e criptovalute. Oggi il progetto che vi voglio portare è davvero unico e lo considero uno dei progetti più promettenti per il settore NFT game e per il metaverso in quanto ha degli aspetti davvero unici. Hanno anche lanciato un'asta questo mese su diversi oggetti NFT fondamentalmente quegli oggetti che poi serviranno nel loro metaverso. Di questo gioco ne avevo già accennato qualcosa in questo video qua che vi lascio link qui in alto e ho preferito dedicargli proprio un video in quanto come ho detto lo considero davvero unico come progetto ed altissimo potenziale e sicuramente una buona parte del mio portafoglio lo investirò in questo progetto in quanto amo il progetto, adoro il team che c'è dietro che è un team di tutto rispetto che tra poco vedremo. Prima di iniziare come sempre ricordo che non sono consigli finanziari. Se vi piacciono poi questi contenuti lasciate un like ed iscrivervi il canale. Poi qualsiasi domanda su questo gioco puoi iscrivermi qua sotto o anche sul mio gruppo telegram dove porto sempre aggiornamenti. Bene il gioco di cui vi sto parlando è Big Time. Per accedere al sito è bigtime.gg. Come puoi vedere da Big Time è un gioco di ruolo d'azione multiplayer con la quale possiamo viaggiare nel tempo dove abbiamo la possibilità di trovare nft collezionabili. E una cosa che consiglio di fare è andare sotto subscribe ed inserire la tua email per rimanere aggiornato sul progetto anche per il fatto come entrerà nella whitelist così da poter partecipare magari alla prevendita. Essendo poi un gioco play to earn avrai la possibilità anche di guadagnare soldi giocando. Ovviamente una volta capite le dinamiche del gioco. Come detto sarà un gioco rpg in cui potrà viaggiare nel tempo e nello spazio esplorando antichi misteri civiltà futuristiche e raccogliendo oggetti nft rari e leggendari. Poi qua sotto puoi vedere già un po' i diversi personaggi del gioco. Abbiamo la linea del tempo dove ci è consentito far salire di livello il personaggio in più percorsi di classe. Quindi passare da una classe all'altra in modo veloce. E come vedi abbiamo il guerriero del tempo che è un combattente del gruppo. Il cronomante che sarebbe il mago. La lama d'ombra che sarebbe diciamo l'assassino ed infine il riparatore quantico che sarebbe un po' il guaritore del team. Poi come vedi abbiamo anche le diverse armi come l'ascia di battaglia come le doppie lame oppure il warhammer. E devo dire che le grafiche sono veramente fantastiche. Forse una delle migliori che abbia mai visto in questi giochi play to earn che seguo. Poi come vedi tu stesso ogni arma ha la sua caratteristica. L'ascia di battaglia è molto bilanciata. Le doppie lame sono molto più veloci e anche per attacchi combo. Quindi sarà anche fantastico vedere quali altri armi puoi equipaggiare appena uscirà il gioco anche quando salirai di livello. Inoltre l'aspetto più interessante di questo gioco è che effettivamente hai anche una macchina del tempo che puoi acquistare e dove possiamo decorarla con gli nft che troviamo nel gioco. Oltre che possiamo invitare anche amici per combattere insieme. Ora purtroppo un white paper non l'abbiamo ancora. Però abbiamo molte informazioni tramite il loro sito che vediamo qua ma anche tramite i loro social come twitter che abbiamo più oltre 150.000 follower solo su twitter hanno un seguito pazzesco ragazzi. Molte persone sanno che è un progetto che andrà molto bene ma anche su discord con oltre 300.000 persone e 40.000 utenti online. Il loro gruppo telegram con oltre 20.000 persone e 3.000 persone online. Ovviamente per questi tipi di gioco che si basano sugli nft molte più persone usano discord. Io uso molto più telegram però vi consiglio di seguirli anche su discord e tweet per rimanere sempre aggiornati sugli aggiornamenti futuri. Poi se vediamo qualche notizia importante sul loro medium come vediamo che è stato lanciato il loro marketplace di nft quindi usciranno con diversi loro personaggi e armi. Poi come scritto anche da loro the bigger time marketplace è un prodotto davvero rivoluzionario e non vediamo allora che tu sia il primo tu stesso a provarlo. Hanno già messo anche a disposizione il pass per l'accesso anticipato sulla loro piattaforma che è disponibile in oltre 80 paesi prima che poi la vendita diventi attiva sarà anche in grado di accedere alla versione beta per registrarti caricare i tuoi dati di pagamento e prefinanziare il tuo account. Ovviamente come vedete il costo dell'accesso è abbastanza elevato partiamo da un minuto di 1.500 dollari fino a 8.000 dollari. Poi come tutti i giochi avremo la possibilità di acquistare e vendere e scambiare anche i nostri nft all'interno di big time marketplace senza dover gestire un portafoglio separato come per esempio metamask. Inoltre accetterà anche le carte di debito e le carte di credito i bonifici bancari o come le classiche cripto allovute e ovviamente questo è un aspetto fantastico che accettino carte di credito così danno la possibilità a chiunque di poter giocare al gioco. Poi qui sulla loro pagina potete vedere tutti gli aggiornamenti che rilasciano sul loro blog news. Hanno veramente un sacco di articoli da leggere. Io vi consiglio di andare sul loro sito e di andare a leggerli e capire te stesso il potenziale che ha questo gioco. Hanno anche già rilasciato alcune caratteristiche di alcuni personaggi come Einstein, come il capitano Che Guevara. Inoltre poi questo bellissimo articolo qua ci spiega come con big time possiamo costruire il nostro metaverso personale. I giocatori guadagneranno la loro prima macchina del tempo nelle prime fasi del gioco e una volta guadagnata potranno espanderla e personalizzarla rendendo questa bolla dello spazio tempo, questa macchina del tempo, un riflesso unico della nostra personalità. Per aggiornare e espanderla a questa macchina del tempo avremo a disposizione gli space nft in edizione limitata. Dovranno essere raccolti nel gioco acquistati nel big time marketplace. Saranno incredibilmente rari e difficili da acquisire quindi dalla fornitura totale di ogni spazio solo una certa quantità sarà assegnata alla vendita e il resto sarà distribuito attraverso l'avventura di big time. Quindi chiunque giochi avremo questa possibilità di guadagnare questi nft rari. Se poi ora diamo uno sguardo al team capite da voi il potenziale che ha questo gioco è perché io investirò parecchi soldi su questo progetto. Abbiamo domi di tutto rispetto. Abbiamo Eri Melich che è il fondatore più onoristico di nft sulla piattaforma di Decentraland che tutti sappiamo è una delle più famose per quanto riguarda il metaverso. Passando poi a tutti gli altri del team dove ognuno ha avuto esperienza in grosse aziende dei videogiochi come per esempio Electronic Arts, Zynga ma anche sviluppatori disegnatori artistici di giochi come Fortnite, Good of War, Call of Duty. Quindi capite che le persone dietro a questo progetto sono tutti nomi di rilievo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Direi che sanno il fatto loro. Poi come ho detto all'inizio che hanno già messo in lancio il loro nft che servono poi per giocare come vedete da voi già la maggior parte sono andati sold out. Sono rimasti veramente pochi pezzi. Se siete interessati a questo gioco io vi consiglio comunque di incominciare a comprare anche il pezzo che costa di meno perché credo che sicuramente quando il gioco avrà successo questi pezzi qua costeranno molto di più. Non costeranno più 300 dollari ma il prezzo sarà molto più elevato. Bene questo è il progetto Big Time. Io sono veramente molto eccitato dall'uscita di questo gioco e credo che abbia un potenziale fantastico. Basti guardare solo al team che c'è dietro. In futuro sicuramente continuerò a parlare di questo gioco portando aggiornamenti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto. Spaccate il tasto dei like. Iscrivetevi al canale. Inoltre ricordo di seguirmi su Telegram per tutti gli aggiornamenti. E se credi in questo progetto segui i loro social. Lascio tutti i link sotto in descrizione. Non mi resta che augurarvi come sempre un buon investimento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.